I due ragazzi Perle e Mirko Brunetti sono una coppia di innamorati che pubblicano sui loro profili instagram tutte le loro storie d'amore veramente appassionante e video in cui si baciano e fanno sognare tutti i loro fan quanto è bello vederli con gli occhi sognanti mentre si guardano l'uno negli occhi dell'altro e guardarli scherzare su ogni cosa mentre Perle chiama Mirko amò Perle e Mirko i due ragazzi stanno mettendo tutto il loro amore nella loro bellissima storia e anche se sono presi dal lavoro e dai mille impegni che le offrono ogni giorno prima di tutto c'è il loro amore il loro splendido amore che fa sognare Perle oggi sarà in viaggio per tornare a casa sua a salerno dopo dei bei momenti vissuti a milano anche con la sua amica antonella fiordelisi Mirko è a Roma per lavoro ma presto si rincontreranno forse già domani e saranno nuovamente insieme a scherzare a coccolarsi perché il loro è sicuramente un grande amore vi piacerebbe vedere i perletti a pechino express tutte e due questa è la grande novità ciao 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 ciao